Eccoci qua con Ivano Iacomelli sul bellissimo campo del Tamagnini, qui a Campo dell'Oro e con lui parliamo della situazione del Civitecchia a calcio, insomma l'ultima giornata di campionato ha visto il Civitecchia soccombere sul rigore proprio allo scadere, ma a parte questo particolare non positivo, diciamo che è stata una bellissima vittoria invece sette giorni prima, in ogni caso per una squadra ripresa in questa serie e tu con tanti giovani mi sembra che l'andamento sia più che positivo. Beh sì, innanzitutto un saluto a tutti i tifosi neroazzurri di Civitecchia, sì è stato un periodo particolare, abbiamo quattro partite con le prime quattro del campionato, quindi abbiamo vittorio col Fiumicino, una partita che è stata rocambolesca, abbiamo perso una zero sul rigore al 91esimo con la Dispoli, una grandissima squadra che però aveva marginato fino all'ultimo minuto, perché ripeto al 91esimo su un rigore che è stato bravo Toscano a cercarlo e a procurarselo, meno bravo l'albino a darlo, però ormai come diceva un grande tecnico Boscov rigore è quando l'albino dà e quindi abbiamo portato a casa questa sconfitta. Una sconfitta però che va vista, va letta perché in campo c'erano moltissimi under, c'era una panchina completamente composta di under che è un po' lo spirito di questa squadra, in attesa che arrivi il mese di dicembre, che si riapra la finestra del calcio mercato e con l'allenatore Amici, Cesaro e il direttore generale Fronti stiamo cercando già di vedere alcune situazioni per inserire due o tre personaggi di spessore di questa categoria che possono continuare quel processo di crescita che stiamo cercando con i giovani del settore giovanista, di Civitavecchia e delle zone limitrofe. Ora ci attendono due partite importantissime con l'acqua pendente a casa, con pagina che in assi di partenza è data anche essa come favorita, e con la sorprendente Tolfa che ha già dimostrato che quando si parla di derby non ci sono né ripescaggi né squadre che si affacciano per la prima volta a questo campionato perché ci hanno già eliminato dalla Coppa Italia e quindi come si dice in gergo ci stanno aspettando a Tolfa. Davvero spero che sia un match tra cugini, sicuramente rivali in campo, ma spesso ci incontriamo e ci conosciamo tutti, sarà una giornata all'insegna dello sport. Però ripeto, domenica prima abbiamo la pratica dell'acqua pendente che speriamo di portare punti in Cascina. Con il nuovo mister come va? Visto che l'anno scorso con il sogno c'era stato qualche problemino di incomprensioni, poi tutto sommato c'è stato lo spareggio che è stato perso in maniera assurda. Ne parlo oggi per la prima volta, lo spareggio è andato nel peggiore dei modi, un rigore a 7-8 minuti dalla fine, taglia le gambe e non ti dà la possibilità di ripresa. Adesso mi sembra che però la squadra sta andando bene, c'è un buon clima soprattutto, poi tutto sommato è un anno di rifondazione, di transizione, quindi non ci sono quelli da rivincere. C'è la giusta necessità di non sudare in un play-out. Mi auguro che per le forze messe in campo e la squadra che stiamo realizzando facciamo un campionato che poi ci vedrà la fine al centro classifica con la speranza di prenderci qualche soddisfazione in più. Col Tecno e Amici c'è un programma, come io dico sempre, un anno più due, perché lui stesso deve vedere cosa c'è di buono dietro, quindi nel settore giovanile. Quest'anno sono arrivati i 98, c'è qualche 97 e mi auguro che i 99 quest'altro anno saranno ancora un grosso serbatoio da cui attingere. È chiaro che per fare la categoria dobbiamo prendere quei 5-6 personaggi di spessore che possono, ripeto, continuare il processo di crescita dei nostri ragazzi e dare quella tranquillità. Vediamo, Alessandro... Tenere potta nelle difficoltà. Assolutamente. Ricordiamoci sempre che noi siamo partiti con un grosso handicap che era quello di dover, venendo da campionati in cui c'erano contratti fatti un pochino così alla Carlona, ma che comunque poi, essendoci delle firme dei presidenti di allora, è toccato pagarli. Finite quelli, adesso abbiamo questi due grossi ricorsi con l'ufficio delle entrate, per cui cerchiamo di fare quello che è all'interno della legge, cerchiamo di fare di tutto per portare avanti questa gloriosa società. Io mi fermerei qui perché noi abbiamo sempre 5-6 minuti di disposizione del question time, questo speciale calcio con Ivano Iacomelli. Ricordiamo, domenica alle ore 11 c'è l'acqua vendente in casa, un'altra prima della classe che scende a Civite Vecchia. 07-66 news, question time. di rinco, domenica alle ore 11 c'è l'acqua vendente in casa, come parla io e l'acqua vendente in casa, l'acqua vendente in casa. Anche alle ore 11 c'è l'acqua vendente in casa, e anche ai ore 12 c'è l'acqua vendente in casa. Quindi, dragoni in casa,